Siamo nella sala delle filigrane in chiaroscuro, l'altra grande tradizione fabrianese che abbiamo fin dagli inizi del 1900 grazie a Giovanni Battista Miliani e qui vediamo bellissime filigrane con grandi personaggi della nostra storia passata dal Pio XII a Lindbergh, Mussolini, Vittorio Emanuele, il nonno dell'attuale re del Belgio Alberto I e l'Edoardo VII, per farvi capire quanto è importante la storia e magari è un modo anche questo di passare bene questo periodo nelle proprie famiglie andando a studiare la storia, andando a rivedere i personaggi famosi del tempo che ci hanno permesso anche di essere qui oggi. Quindi restiamo a casa e studiamo la storia che è importantissima.